Non è stato il giorno della sentenza sulla truffa della vecchia banca Etruria, ossia il collocamento ritenuto troppo disinvolto dall'accusa delle famigerate obbligazioni subordinate, diventate carta straccia nell'ottobre 2015 a seguito del decreto salva banche. Il processo che vede sul banco degli imputati dirigenti e direttori di filiale dell'istituto di credito è infatti ripreso questa mattina dopo sei mesi di stop con le ringhe degli avvocati difensori. Il verdetto potrebbe arrivare entro la fine del mese, la prossima udienza infatti è stata fissata per il 30 settembre. Gli imputati in tutto sono 13 per quasi tutti loro, il PM Giulia Maggiore ha chiesto la condanna. Per l'accusa avrebbero costituito una cabina di regia che avrebbe impartito direttive per la collocazione dei titoli subordinati di banca Etruria ad una clientela indistinta in un momento in cui la banca era però già in difficoltà. Cinque degli imputati sono accusati di istigiazione alla truffa solo per uno Paolo Mencarelli, dirigente private, il PM ha chiesto la soluzione. Le pene più pesanti invece sono quelle che sono state richieste per Luca Scassellati all'epoca direttore territoriale e Federico Baiocchi di Silvestri responsabile dell'area mercati, tre anni a testa ed 800 mila euro di sanzioni. Due anni e mezzo e 700 mila euro di multa invece la pena che il PM Giulia Maggiore ha chiesto per i coordinatori di zona Luigi Fantacchiotti e Samuele Fedeli. Un anno e sei mesi e 600 mila euro infine la condanna sollecitata per i direttori di filiale agli impiegati che materialmente avevano venduto i titoli ai risparmiatori azzerati.